Musica Arriverà anche il manoscritto originale dell'infinito di Giacomo Leopardi in Valdichiana per la 55esima edizione di Cortona Antiquaria. È tutto pronto infatti per la manifestazione che si svolgerà dal 19 agosto al 3 settembre. Anche quest'anno abbiamo occupato tutti gli spazi disponibili e ci sono tra i migliori antiquari nel panorama italiano. Molti di questi antiquari partecipano alle più importanti mostre dell'antiquariato in Italia e quindi partecipano anche a quella di Cortona. Purtroppo la sede non ci permette grandi spazi quindi dobbiamo fare poi una selezione e tutti gli anni abbiamo sempre un po' di difficoltà ad accontentare un po' tutti. Non solo esposizione, Cortona Antiquaria infatti è anche un premio prestigioso. Quest'anno la Commissione ha deciso di consegnarlo alla Scuola Normale di Pisa. La cerimonia è fissata per sabato 26 agosto. L'istituzione che rappresento e di cui sono orgoglioso è un'istituzione storica in Italia, è un'istituzione che coltiva l'eccellenza della ricerca e della formazione ma è anche un'istituzione che, come dicevo prima, ritiene di dover contribuire alla formazione dei nuovi cittadini, delle nuove persone e di poter dare un proprio contributo che sintetizza in una parola pensare per un periodo medio-lungo e non all'immediato. La sorpresa di quest'anno è però negli appuntamenti collaterali. Infinito Leopardi, il manoscritto originale e il suo contesto storico è infatti il progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Cortona, quello di Visso e la Scuola Normale Superiore di Pisa. La mostra, che avrà sede al MAIC, avrà come pezzo di punta il manoscritto originale dell'Infinito. Penso che quest'anno abbiamo voluto dare un ulteriore passo in avanti a quella che è non soltanto una mostra a mercato, ma è un evento culturale, un evento che mostra quanto Cortona sia centro di sviluppo sui temi turistici, sui temi culturali, sui temi dell'antiquariato, sui temi della conoscenza, del sapere, del talento, che sia quello manuale o che sia quello intellettivo.